Con il Presidente Michele Iorio, uno dei leader della politica molisana, quello che è successo qualche giorno fa con la revoca delle nomine degli assessori ha lasciato alquanto strabiliato gran parte della popolazione molisana, lei in merito che giudizio ci può dare? Per come è stato fatto e annunciato all'improvviso senza nessun approfondimento né dibattito sicuramente il mio giudizio è stato, già mi sono espresso, è stato molto negativo poi fare un'operazione di questo genere alla vigilia del bilancio per far votare gli assessori in consiglio credo che sia fuori dalle regole del gioco, è comunque un atto profondamente lesivo del diritto di voto in consiglio regionale, nel senso che non è possibile, che a nessuno è consentito di utilizzare una norma che prevede la legge elettorale, cioè la sostituzione degli assessori per fare i conti sulla votazione del bilancio, come dire un'usurpazione dei diritti di democrazia e di rappresentanza, credo che sia un fatto molto grave, poi lasciamo perdere sul piano dei rapporti interni alla maggioranza è dirompente, i quattro consiglieri regionali sono stati quelli sempre più in linea con la giunta, anzi credo che quando io non ho votato questa legge all'epoca di frattura, dissi che non era possibile dare agli assessori questo potere, cioè il potere di decidere se un consigliere faceva il consigliero o doveva tornare a casa, è un potere che la legge, è una forzatura della legge, proprio questa forzatura della legge adesso la utilizza il Presidente della Regione a scopo di creare numeri diversi da quelli che potrebbero essere. Poi credo che questo testimoni che questa maggioranza non esiste più, sostanzialmente si regge solo sull'ipotesi che si possa avere un assessorato in più, un assessorato in meno, ma non c'è più quella tensione ideale su progetti condivisi, su programmi decisi, diciamo, coralmente, con la partecipazione di tutti, senza nessun confronto, si ricevono notizie di piani di 57 milioni di euro approvati la sera che ancora non conosciamo, penso sia stato pubblicato appena ieri, questo è il disprezzo che questo Presidente ha della sua maggioranza, io non ci sto, gli altri ci stanno, avranno i loro motivi. E poi, ultima questione, credo che parlare di numeri, di riorganizzazione di giunta e di votazione di verifiche di maggioranza in questa fase di coronavirus dove l'Europa sta attuando provvedimenti straordinari fuori dalle regole del gioco per cercare di parare il colpo di una crisi incredibile che ci sarà dopo questa epidemia, dove addirittura il mondo sta modificando i rapporti internazionali, noi ci stiamo cingistiando sui problemi dell'aggiunta regionale o dei voti del bilancio. Nessuno ha mai messo in discussione che il bilancio sarebbe stato votato e quindi tutte queste ragioni mi spingono a dire che questa è una casquallida operazione politica. Presidente, ma parliamo un po' dal punto di vista dell'assetto politico perché a quanto sembra i quattro consiglieri surrogati che sono già stati esautorati erano lineati con la maggioranza. Quindi questi quattro assessori, escluso Mazzuto perché non è consigliere, ritorneranno a fare consiglieri. Quindi la maggioranza, diciamo, ad occhio e croce dovrebbe essere la stessa. Sì, il problema dei numeri non cambia, a meno che non si fanno alcune altre operazioni che pure sono in corso per cercare di riequilibrare i numeri alla maniera di come si fa con la conta delle pecore. Lei pensa con le varie prebende a qualche consigliere magari che... Ma insomma può darsi, può darsi che ci sia anche questo dietro questo discorso, però questa non è politica, cioè questo è un modo per superare un momento di difficoltà, la maggioranza c'era, Toma non ha avuto la capacità, dico io a questo punto, di creare una maggioranza vera, cioè una maggioranza che condivida le cose e con entusiasmo vada a fare delle proposte e delle battaglie politiche. La sua responsabilità è stata quella di ritenersi al di sopra di tutto e di tutti, padrone assoluto della regione, senza nessun tipo di confronto. Almeno questo ho notato io nei miei riguardi, ma posso garantire, posso garantire, perché nessuno mi potrà smentire, che nessun consigliere di maggioranza, almeno tra i banchi del Consiglio, è soddisfatto di questa situazione e posso anche garantirli che persino gli assessori sono poco soddisfatti di questa situazione. Quindi io credo che o Toma cambia registro completamente, se ha la possibilità e la voglia di farlo, o se no non andrà avanti. Presidente, ma noi da un'intervista del Presidente Toma abbiamo anche capito che lui questo giochetto, tra virgolette, questa strategia politica, la possa usare anche in futuro? Cioè quella di revocare i suoi assessori per ottenere magari di nuovo la maggioranza su qualche problematica abbastanza seria dove occorre la maggioranza assoluta? Sicuramente sì, sicuramente sì che la possa usare. Quello è un suo potere, quello di nominare gli assessori e quindi di conseguenza quello di stabilire chi sta in consiglio e chi no. Quindi ci sarà un anno di rivini dei surrogati, entrano o escono? Ci potrebbe essere? Io credo che non duri a lungo questa condizione. Adesso abbiamo altri problemi, abbiamo il problema dei molisani, il problema delle crisi enormi che sono in giro, il problema del riordino della sanità. Anche sulla sanità non si è fatto nulla, nulla di concreto. Abbiamo lavorato con lo stesso organico, con la stessa situazione che avevamo prima, in tutte le regioni si sono modificati ospedali, riaperti, richiusi. In Molise non si è fatto un atto di governo nella sanità, un solo atto di governo. Si è solo gestito gli ordini che venivano da Roma facendoli passare per iniziative molisane. Ma insomma non sono soddisfatto, penso che si sia capito. Grazie a tutti.